Eccoci, ben ritrovati, questo è Sky Sport 24, io sono Marina Presello, ma siamo prontissimi a collegarci con Sky Academy Studios, il nostro Studio 1 per importanti novità. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Sky Academy. Io sono Gabriele Di Corato e oggi vi parlerò del valore dello sport attraverso un'iniziativa promossa dalla Scuola Galdus, che ha organizzato la Job Run, una grande manifestazione sportiva aperta al territorio. Il nome Job Run significa corsa e lavoro, Galdus vuole usare la corsa come la metafora della formazione professionale che mette in movimento e accompagna i giovani al lavoro. Per saperne di più passiamo la linea alla nostra collega Alessia Gasga in diretta da Milano. Buongiorno, grazie Gabriele per la linea, sono Alessia e mi trovo a Milano per darvi alcune informazioni sulla manifestazione Job Run, che si terrà il 14 aprile. Job Run è un progetto che nasce dalla collaborazione di alcune scuole milanesi e imprenditori, con lo scopo di sensibilizzare i giovani al mondo dello sport, ma soprattutto raccogliere attraverso le iscrizioni dei partecipanti dei fondi destinati alla costruzione di scuole in Bangladesh e in Kenya. Si tratta di una staffetta 4x5, lunga circa 21 km. Per chi non partecipa alla corsa è possibile aderire a plugging, ovvero una camminata ecologica che segue il percorso della staffetta e invita i partecipanti a raccogliere gli eventuali rifiuti lungo il percorso. Un valore green che si aggiunge all'altro obiettivo nobile della manifestazione. Vi diamo quindi appuntamento domenica 14 aprile alle 9 e mezza al Parco delle Cave. Passo ora la linea alla collega Susan. A te la linea! Buongiorno, sono qui con Fabio e Maria che hanno deciso di partecipare alla manifestazione sportiva e oggi ci racconteranno di come si stanno allenando per affrontare la corsa. Fabio, tu che hai deciso di partecipare alla manifestazione sportiva, cosa ti ha spinto a farlo? Buongiorno, il motivo per il quale ho scelto di partecipare a questa staffetta è stato quello di voler rappresentare la mia classe. Maria, tu invece come ti stai preparando alla corsa? Io sto facendo degli allenamenti progressivi seguiti da preparatori atletici che organizzano dei momenti in vari punti della città per migliorare le nostre prestazioni. E invece riguardo alle strategie, ne stai seguendo qualcuna per registrare tutti i chilometri? Sicuramente non partirò con uno sprint, cercherò di dosare le mie energie e la mia respirazione. Dimmi un po' Fabio, ti senti carico? Pensi di vincere? Sì, sono molto carico e cercherò di fare il mio tempo. Grazie e buona fortuna. Ora passo la linea ai miei colleghi dello studio 4. Arrivederci. Buongiorno a tutti, grazie Susan per la linea. Benvenuti in studio da Andrea Lenna, mi trovo qui con due ospiti per parlarvi dell'evento Job Run. L'organizzatrice, la mia destra Martina Porta e invece alla mia sinistra abbiamo la dottoressa sportiva Rebecca Forti. Buongiorno. Direi di iniziare subito con Martina Porta e cosa puoi raccontarci su questo evento? Allora, questa manifestazione si tratta il 14 aprile presso il parco delle cave a Milano, ritrova verso le 8.30 e in tutto inizierà alle 9.30. Questa manifestazione prevede una staffetta 4 per 5 km e in caso ci fosse qualcuno che non volesse correre prevede una camminata lunga 5 km o un plonking il quale prevede una camminata ecologica nel rispetto dell'ambiente. Molto bene. E a che cosa si deve questa manifestazione sportiva? Grazie a questa manifestazione noi vogliamo avvicinare i giovani al lavoro, rendendo importante la formazione professionale. Tutti si staranno chiedendo a chi è rivolta? È rivolta a famiglie, insegnanti, alcune aziende, ci aspettiamo circa 2000 persone. Molto bene. Adesso invece passerei dalla mia dottoressa sportiva e niente, perché è così importante lo sport per i giovani? Lo sport per i giovani è importante per diversi punti di vista, a partire dalla salute. Più movimento si fa, maggiore sarà la prestanza fisica. L'apprendimento delle regole e della disciplina, in modo da poter imparare a rispettare i propri ruoli e quelli degli altri. Inoltre lo sport può insegnarci ad avere un obiettivo a cui tendere e a come raggiungerlo. Però bisogna essere pronti a fare dei sacrifici. Molto bene. E cos'è che ci può insegnare questo evento? Questo evento può insegnarci a riflettere sia sullo sport e i suoi benefici, sia sulla formazione professionale e la sua importanza. Ok, molto bene. Invece, com'è che l'alimentazione va a influire sullo sport? L'alimentazione e l'allenamento sono fattori fondamentali se si vuole ottenere una buona prestazione fisica. Sicuramente seguendo una dieta equilibrata e facendo molto esercizio si è sicuri di poter svolgere un'attività fisica ad alte prestazioni. Perché il nostro organismo fornirà l'energia necessaria per farlo. Molto bene. Io ringrazio le tue ospiti e ripasso la linea a Gabriele in studio. Arrivederci. Arrivederci. Grazie per la vostra attenzione. Vi aspettiamo numerosi il 14 aprile al Parco delle Cave di Milano. Arrivederci. E non mi resta che ringraziare tutto il team di Sky Academy Studios. A dopo! Un saluto dei Mendoza, il mutatore. Gaia Calcagno, la regista. Gabriele Di Corato, giornalista. Lady Andesana, la stilista. Can live with the cameraman. Ciao! Ciao, sono Alessia e ho fatto la giornalista inviata. Ciao, sono Sonia e ho fatto la stylist. Ciao, sono Randall e ho fatto il cameraman. Ciao, sono Mary e ho fatto la regista. Ciao, sono Alessandro e ho fatto il montatore. Ciao! Fabio, testimone. Ionella, regista. Maria, testimone. Susan, giornalista. Fabiola, stylist. Cobi, montatore. Ciao! Ciao! Grietà, regista. Sheila, cameraman. Marchi, montatore. Martina, esperta. Andrea, giornalista. Rebecca, esperta. Ciao! Ciao!